Devo dire che è un capo politico, non voglio stare qui nemmeno a parlare di Grillo, però è un capo politico che è riuscito anche a utilizzare quello che è un dramma mondiale, un dramma dell'umanità che la Shoah per fare cassetta, così come ha utilizzato le 300 bare di Lampedusa per dire che non voleva eliminare quella che era la legge che prevedeva il reato di clandestinità. Allora, questo per fare cassetta. Il problema vero del Movimento 5 Stelle è che critica quotidianamente un provvedimento in un anno, perché puoi essere nuovo nel momento in cui lo sai veramente, ma quando con 150 parlamentari stai alla Camera, noi dell'Italia dei Valori avevamo 29 alla Camera e 14 al Senato, ma abbiamo partecipato alla formazione di reggi e aggiungo, fuori dal Parlamento abbiamo fatto referendum di straordinaria importanza a partire dal dire no al nucleare nel nostro Paese e oggi se non c'è nucleare in Italia è perché abbiamo fatto quel referendum. Francamente il Movimento 5 Stelle al di là della critica o di srotolare striscioni o far vedere fotografie non mi pare che abbia fatto. Io rispetto a Berlusconi, anch'io sono dell'idea che meno ne parliamo meglio è, però quello che viene fuori da questa condanna o meglio da questo modo di scontare una pena è un drammatico segnale. Perché guardate, 4 anni con sentenza passata in giudicato per frode fiscale e alla fine la sconti non con un giorno di galera, non con una pena detentiva, ma la sconti andando 20 volte presso una casa per anziani a fare un po' di assistenza. Non è un messaggio positivo per la popolazione italiana perché alla fine io che le tasse le pago penso di essere uno stupido a pagarle e chi non le paga pensa di essere molto furbo perché alla fine quello che può rischiare sono 20 giorni di assistente sociale. Questo è il tema vero. Allora il dramma del nostro Paese è quello di avere una certezza della pena uguale per tutti perché voglio sapere se si chiamava non Berlusconi ma in un altro modo se alla fine la pena sarebbe stata la stessa. Questi sono i temi veri perché se non c'è la certezza della pena nel nostro Paese per i vari reati e quello di frode fiscale in questo momento è uno dei reati più gravi ma negli altri Paesi civili così è, è chiaro che poi il Paese va a rotoli. Nessuno parla più di corruzione, o meglio si parla di corruzione nel senso che ogni giorno beccano qualcuno, ma nessuno parla più di lotta alla corruzione, nessuno parla più di evasione fiscale ma non la piccola evasione del gelatario. Questo va detto con molta forza e alla fine quelli sono i temi veri da affrontare.